Tratti caratteriali distintivi. Il Jack Russell Terrier è ora ampiamente distribuito nel Regno Unito come cane da caccia, cane da fattoria e da compagnia. Può avere sia il pelo ruvido che liscio. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Jack Russell Terrier arrivò nel continente. I cacciatori di equitazione hanno particolarmente apprezzato la razza. Il Jack Russell Terrier è considerato insuperabile nella caccia al tasso e alla volpe. I tassi in Inghilterra sono ora sotto protezione, quindi l'animale catturato nella caccia non viene ucciso, ma rilasciato. Il Terrier prende parte al lavoro sul sentiero insieme ai cani, quindi ottiene il compito più difficile. Scacciare la volpe dal buco. Inoltre, cacciano lepri e topi d'acqua con il Jack Russell Terrier. In Francia, questi cani cacciano con successo nei boschetti di cespugli e nella foresta, servono uccelli da caccia e uccelli, comprese anatre dall'acqua, rintracciano coniglie e caprioli, svolgendo il compito di segugi. I Jack Russell Terrier sono molto efficaci nel lavorare sulle tracce di un cervo, che infastidiscono meno dei grandi segugi, quindi è più facile per il cacciatore avvicinarsi all'animale. Aiutano anche a radunare i cinghiali. I cacciatori di cavalli in Champagne, Ardenne e Picardia utilizzano sempre più questi cani di piccola taglia per lavorare sulle tracce del sangue. Jack Russell Terrier è un cacciatore versatile di piccola statura, coraggioso, resistente e abbastanza obbediente. Attualmente, in Sudafrica sono usati come cani da guardia, facendo immediatamente rumore quando invadono estranei. Manutenzione e cura. Il Jack Russell Terrier prospererà con cibo per cani di qualità. Qualsiasi dieta dovrebbe essere appropriata per l'età del cane. Alcuni cani tendono ad essere in sovrappeso, quindi tieni d'occhio l'apporto calorico e il livello di peso del tuo cane. I dolcetti possono essere un importante aiuto per l'esercizio, ma troppi possono causare obesità. Rivolgiti al tuo veterinario, se hai dubbi sul peso, o sulla salute del tuo cane. L'acqua pulita e fresca dovrebbe essere sempre nella ciotola. Il pelo folto, corto e liscio può essere mantenuto in ottime condizioni strofinandolo con una spazzola morbida o un guanto una volta alla settimana. Il pelo ruvido deve essere spazzolato o pettinato settimanalmente, ma generalmente rimane naturale con una manutenzione minima. Le unghie di Roussel dovrebbero essere tagliate mensilmente, e le orecchie controllate settimanalmente per detriti o cera in eccesso e pulite secondo necessità. I suoi alti livelli di energia, e il forte temperamento rendono questa razza una scelta eccellente per una famiglia, che fa molte escursioni, gite in bicicletta e lunghe passeggiate quotidiane. Il Jack Roussel Terrier stanco è un buon Jack Roussel Terrier. Un apporto energetico pressoché illimitato rende il cane un ottimo compagno per i bambini. La razza ha mantenuto un forte istinto di preda, quindi dovrebbe essere molto ben socializzata all'inizio per evitare qualsiasi problema che possa derivare da questo tratto. La prima cosa da avere, quando si addestra un Roussel Terrier è un buon senso dell'umorismo. Imparano facilmente i trucchi e amano intrattenere le persone con le loro esibizioni. Si buttano in qualsiasi lavoro o attività con la stessa dedizione per cui sono nati a scopo venatorio. È un'ottima scelta per gli sport canini come l'agilità, il fliball, l'obbedienza, il rally e persino il coursing. Il Jack Roussel Terrier è una razza di cani da caccia allevata nel XIX secolo dal sacerdote Jack Roussel. Questi cani disperatamente coraggiosi, a volte avventati, venivano usati per cacciare le volpi. Al giorno d'oggi, i terrier piccoli, giocherelloni e affettuosi con le persone, sono compagni meravigliosi e animali domestici che hanno messo radici bene nelle condizioni urbane. Tuttavia, non hanno perso le loro qualità lavorative. Punti salienti e fatti interessanti. Gli antenati della razza combinano la taglia, l'istinto e la corporatura ideali per un terrier di terra funzionante. Jack Roussel Terrier è nato in Inghilterra, e si è sviluppato ulteriormente in Australia. Il Jack Roussel Terrier è stato classificato come terrier. Jack Roussel Terrier 175esimo razza AKC. Storia della razza. Questi terrier sono stati allevati nel Regno Unito appositamente per la caccia allatana. Il cane deve arrampicarsi nella buca e scacciare l'animale da lì, o tirarlo fuori durante il combattimento. Il terrier deve essere piccolo per penetrare nel buco, e potersi muovere liberamente al suo interno, quindi, tradizionalmente, l'altezza algarrese dei terrier scavatori non superava i 38,5 centimetri. Allo stesso tempo, un cane del genere richiede forza, coraggio e mascelle potenti per combattere la bestia armata di denti, e artigli. Non è facile lavorare in una buca. È buio, stretto e angusto, la terra si sgretola, e sono possibili anche intasamenti. I terrier con pelo liscio o corto, e, di regola, duro sono i più adatti per la caccia in tali condizioni. Dall'inizio del XVIII secolo in Gran Bretagna fu introdotta una nuova tecnologia agricola, che includeva il pascolo recintato. La comparsa di siepi intorno ai campi, ha annullato la popolare caccia al cavallo cervo fin dal Medioevo. Gli agricoltori sono passati a scavare, che è diventato un hobby nazionale. La volpe è stata inseguita da uno stormo di fosone dell'animale nascosto nella tana, è stato scacciato con l'aiuto dei terrier. A questo scopo, i terrier erano adatti, non in ritardo rispetto ai segugi. Il colore preferito era il bianco per evitare confusione tra il cane e la volpe. Tuttavia, il terrier che strisciava fuori dal buco molto raramente rimaneva bianco. Era coperto di fango e saturo dell'odore dell'animale, e spesso i segugi scambiavano il terrier per una volpe. I terrier venivano utilizzati dai cacciatori anche per la ricognizione. Alla vigilia della caccia, cercavano tane per iniziare la carreggiata la mattina successiva e risparmiare tempo. Jack Roussel, un prete inglese, nacque nel 1795 a Dartmouth, nel Devon, e visse per quasi 87 anni. Era un buon cavaliere, appassionato di cacciare volpi con i terrier. Nel 1873 ha cofondato il Kennel Club, e ha preso parte allo sviluppo del Fox Terrier Standard. Tuttavia, lui stesso allevava terrier a pelo duro esclusivamente per la caccia, e non li mostrava mai alle mostre, perché allora solo i terrier dai capelli lisci avevano successo alle mostre. La razza che oggi è conosciuta, come Jack Roussel Terrier non era altro che il vecchio tipo di Fox Terrier fino al 1900. I campioni di Fox Terrier dell'inizio del secolo non erano diversi dai moderni Jack Roussel Terrier. Mentre studiava a Oxford, Roussel acquisì uno dei suoi famosi cani. Una cagna bianca a pelo duro con macchie bruno rossastre sulla testa, e alla base della coda. Non assomigliava agli scottis Terrier dalle gambe corte e troppo cresciute, era snella, di corporatura proporzionata, alta come una volpe. Roussel ha effettuato numerosi incroci con Terrier di diverse razze di colori monocromatici e colorati. Lo scopo del lavoro di allevamento, era quello di migliorare le qualità della caccia, non veniva data molta importanza alle caratteristiche esterne. Fino agli ultimi anni, i Jack Roussel Terrier venivano incrociati con altre razze, ma la prole risultante non corrispondeva al tipo originale della razza, e non veniva utilizzata in ulteriori allevamenti. Nel XIX gradi secolo in Gran Bretagna, moltissimi allevavano interi greggi di Terrier per scavare, i cani da lavoro erano ammessi nell'allevamento, indipendentemente dalle caratteristiche esterne. I Terrier dovevano essere audaci, coraggiosi e di altezza accettabile. In una certa misura, si prestava attenzione alle orecchie, le orecchie erette erano indesiderabili, anche se oggi si trovano in alcuni cani. Alcuni allevatori hanno praticato incroci con Bull e Terrier, una miscela di bulldog di vecchio tipo con vari Terrier. Di conseguenza, i Terrier da caccia, hanno migliorato le qualità di combattimento. Dopo la proibizione dei combattimenti tra cani nel 1835, molti Terrier da combattimento divennero un ricordo del passato. Tuttavia, fino al 1912, era consentito ad escare i topi da Terrier, quindi fiorirono piccole razze di Terrier. Alcuni segni di Bulldog sono ancora visibili in alcuni già Crucell Terrier con rivestimento bianco con macchie nere. Oltre a una corporatura robusta e una testa più larga, si distinguono per la mancanza di una voce informale, necessaria quando si lavora in una tana. Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, molti cacciatori usavano i Sealyam Terrier per l'allevamento nei loro greggi, quelli, a loro volta, venivano spesso accopiati con Pembroke Velskorgi. Uno degli ultimi Terrier utilizzati per l'allevamento introduttivo alla razza già Crucell Terrier fu il White Lacheland Terrier, con il quale gli allevatori intendevano ottenere cani dal comportamento più equilibrato e migliorare la camicia. Tuttavia, i cacciatori nella Gran Bretagna occidentale credono che i cani del tipo Lacheland Terrier siano indesiderabili, in quanto non corrispondono alle peculiarità della caccia alla volpe. In effetti, i cacciatori di volpi britannici occidentali hanno sviluppato un certo rituale, abbigliamento, procedura di azioni, musica, il principale terrierista partecipa alla caccia con il suo grege, ma il compito dei suoi cani non include un attacco diretto all'animale. Questo è un intrattenimento puramente teatrale per aristocratici. Per i cacciatori nella parte montuosa settentrionale del paese, al contrario, la caccia è necessaria per proteggere i loro bestiame dai predatori, quindi i loro terrier inseguono e cacciano davvero le volpi. Salute. La maggior parte dei Russell Terrier sono cani felici, sani e di piccola taglia. Gli allevatori responsabili selezionano le loro mandrie per problemi di salute come l'usazione della rotula, indebolimento delle rotule, sordità e malattie degli occhi, e si sforzano di mantenere la salute genetica della razza testando tutti i loro riproduttori. Prezzo e come acquistare correttamente. Oggi il costo di un cucciolo di Jack Russell Terrier parte da 300 dollari. Il costo dipenderà dalla cuccia, dal pedigre e del cucciolo. Linea di fondo. Il Jack Russell Terrier è una razza di cane da caccia allevato nel Regno Unito, e ulteriormente sviluppato in Australia. Storicamente, questo terrier viene utilizzato con altri cani da caccia. Arrampicandosi nelle tane, scaccia le volpi.